professor randelli cosa si intende per terapia rigenerativa e quali vantaggi da la terapia rigenerativa oggi è una terapia che viene utilizzata nel momento in cui abbiamo un danno articolare e quindi un danno cartilaginio e vogliamo fare in modo di limitare la progressione della malattia o addirittura di avere un tentativo rigenerativo e quindi riparativo dei danni cartilaginei oggi fondamentalmente si basa su alcuni prodotti il prodotto più diciamo alla page che viene utilizzato dalla gran parte di noi è l'acido ialuronico che non solo lubrifica l'articolazione ma anche degli effetti migliorativi da un punto di vista biologico sulla cartilagine altre terapie che sono presenti in letteratura e vengono utilizzate sono quelle con i fattori di crescita di origine piastrinica il prp quindi viene estratto il sangue dal paziente viene centrifugato e dal centrifugato si ottiene appunto il buffy coat che è la parte che contiene le piastrine queste vengono attivate e rilasciano questi mediatori che anche essi agiscono sui tessuti per la rigenerazione un ultimo capitolo che stiamo studiando i cui risultati non sono ancora estremamente validati dalla letteratura è quello di utilizzare le cellule mesenchimali soprattutto di origine adiposa oppure dal midollo osseo quando viene utilizzata la terapia rigenerativa in quali patologie viene utilizzata soprattutto nella patologia degenerativa artrosica in particolare nel grado 1 e 2 di artrosi quindi quando non abbiamo ancora una deformità delle articolazioni e il movimento è conservato quindi questi pazienti sono pazienti che hanno i sintomi della malattia artrosica ma non hanno ancora delle disfunzioni molto importanti in questi casi la letteratura ha dimostrato che possono essere efficaci nei casi in cui invece l'articolazione è deforme o la funzione molto ridotta in questo caso abbiamo la necessità di procedere con la chirurgia protesica